Ho fatto una riflessione, io siccome faccio lo scultore, ho fatto la pietà di Michelangelo, ma prendiamo la pietà di Michelangelo, è venerata in tutto il mondo, vengono da tutto il pianeta, questo per dire la fratellanza, che noi siamo figli di uno stesso blocco, per quello che non sopporto le differenze. Allora tutti guardano la pietà, ma quanto di quel marmo che componeva il blocco dal quale è nata la pietà, quanto di quel marmo è finito nelle discariche del tempo, polvere, eppure era lo stesso blocco. Allora uno è venerato dal pianeta e l'altro che era lo stesso blocco, fratello, è finito nelle discariche. Allora dobbiamo riflettere che se noi siamo qui è perché altri sono diventati polvere per lasciare il nostro figura, eravamo lo stesso blocco ma sono scomparsi. Mi viene a riflettere queste stupidaggini qua ogni tanto.